E' ora di riprenderci l'isola! Ruttiamo il primo deposito a rifornimenti! Cercamo di distruggere un deposito a rifornimenti! Incendio ha piccato! Pensate all'altro! Dobbiamo fare in fretta! Hanno incendiato un deposito! Non devono arrivare all'altro! L'incendio si è spento! Appiccatelo di nuovo! Appicchiamo il primo incendio! Bruciamo il primo deposito a rifornimenti! L'incendio dei pirati si è spento! Danno fuoco a uno dei nostri depositi! Abbiamo incendiato un deposito dei pirati! Dai, bruciate l'altro! Raggiungete la radio! Tra poco arriverà un segnale! Pirata in vista! Devo ricaricare! Riceviamo un segnale! Alla radio, dategli il colpo di grazia! L'ho un nemico! Uno è là! Sto ricaricando! Non ci fermeremo! Impossessiamoci della radio! Benzine in arrivo! Meritano di essere ridotti in cenere! L'aereo è in arrivo! Ottimo lavoro! Eh, calma! Rinfresca! Cosa? Vieni! Grazie! Mm-hmm.